I poppin' away, web! Come scusa? Shazam! Ah! Tanto per cambiare, eccovi un nuovo meraviglioso vlog pieno di argomenti sconnessi l'uno dall'altro. Ma prima di iniziare vorrei parlarvi di due eventi. Il Fire On Stage, che si darà a Modica il 26 novembre, con... Gente Guasta, Bassi Maestro, DJ Shock, Mauri B, Left Side, Master 5, Sicily Rebellious e Drag One. E per inciso, se avete bisogno di pre-vendite, potete anche chiedere a me. Il secondo evento è il Flow Job, che si terrà a Catania il 22 ottobre, con... Salmo, Clementino e Mirko Miro. A ricampatevi numerosi e qua sotto vi lascio i link di Facebook dei rispettivi eventi. Ora, a proposito di Facebook, devo fare un piccolo discorsetto a tutti. Essendo io una persona disponibile, socievole, affettuosa, meravigliosa, allegra, alla mano... Sto dicendo un mare di cazzata? Comunque, fatto sta che io accetto volentieri e tranquillamente tutte le richieste. Solo che, molti di voi mi hanno aggiunto, si chiacchiera un po' ogni tanto e basta. Il problema è che altrettanti usano la mia bacheca come una cazzo di agenzia pubblicitaria. Ora, va bene, un po' di spam ci sta, senza dubbio, ma vogliamo calmarci un po'? Cioè, non dico non rompermi i coglioni, dico semplicemente, non è che mi aggiunge gli amici per postarmi a ruota i tuoi pezzi. Perché a un certo punto neanche li ascolto più. Seconda cosa che mi dà un fastidio è la madonna. Non scrivermi un link che ho scritto iscriviti, oppure ascoltalo. Oh, io non accetto ordini, non è che mi rendi il tuo pezzo ascoltalo. Se mi va, lo ascolto, ma se già mi dici ascoltalo, tipo me lo imponi, io non lo andrò ad aprire mai il tuo link. E poi, mi fa piacere quando mi date un link e mi chiedete un'opinione. Perché, tra virgolette, mi sento onorato che voi teniate al mio giudizio. Ah, se non ti rispondo, c'è un motivo. Il messaggio mi resta lì, prima o poi andrò a vedere. Quindi, non c'è bisogno che tre volte, quattro volte di fila mi dai il link che ho scritto Bella Jason, dammi un parere. Prima o poi, lo avrai. Io metto la mia pagina Facebook perché mi piace ricevere suggerimenti. Magari fare anche nuove amicizie. Infatti, molti di voi mi hanno aggiunto su Facebook, ora ci parlo tranquillamente. Ma basta con questi maledetti spam, con questi ordini, perché la roba diventa una bestia. Ascolta, fallo, fallo. Basta, ragazzi. Quindi, se dovete aggiungermi per rincoglionirmi di spam, evitatelo. Cioè, ci sono giorni in cui mi verrebbe voglia di mettere la mia bacheca privata, tipo che non potete scriverci niente. Ma poi cambio idea, perché la mia giornata non può essere la stessa senza Piero che mi dà del nerd e Dondi che mi scrive cazzate, tipo seguo tutti i tuoi video, sei un grande. Quindi, non prendetelo come un rimprovero. Prendetelo come un piccolo richiamo. Raga, basta questo spam esagerato. Sia in chat, sia via messaggio privato, sia in bacheca. Ma specialmente in bacheca. Basta. Detto ciò, passiamo alle vostre domande. Cosa ne pensi dell'album The Island Chainsaw Massacre di Salmo? Salmo è troppo potente. Perché il rap napoletano è quasi snobbato? Solo perché faccio in dialetto, con la classica scusa, ma non capisco le parole. Ma il rap americano francese lo capite? Credo proprio di no. Pace a tutti. Peace a tutti. Allora Dario, io non posso parlare per il mondo intero, per il globo, per l'emisfero boreale o quello che vuoi. Io posso parlare per me. Io personalmente non snobbo assolutamente il rap napoletano. Anzi, e dico anzi, sono invidioso del rap napoletano. Per il semplice fatto che il, credo vostro dialetto, per farmi una domanda del genere, penso che tu sia di quelle parti, ha una musicalità eccezionale. Simile per l'appunto alla musicalità che può avere un americano o un francese. Quindi io indiscriminatamente ascolto il rap napoletano e mi piace parecchio. Anche se molte parole non le capisco, il senso del discorso lo capisco perché è pur sempre italiano, è un dialetto ma italiano. Quindi da parte mia non è così. Cioè il rap napoletano sbacca. Che ne pensi dei Two Fingers? Allora, i Two Fingers sono screditati da molti b-boy fieri perché dicono in poche parole che sono dei trussi che fanno rap. A me i Two Fingers piacciono un bordello. In primis perché Dante scrive dei testi da paura. E poi, raga, i bit di Rufio per quanto possono suonare poco convenzionali sono delle bombe. Pieni di variazioni, pieni di musicalità. E poi cazzo fanno un sacco di pezzi con Darjan che Darjan è il mio unico dio. Ma il Tornado a due mani te la fidi? Se intendevi quello per Tornado a due mani, sì. Se no, fammi un video di risposta dove mi fai vedere e ti dico se me la fido. Jason, forse mi so perso io qualcosa. Mi piacerebbe sapere come questo appuntamento settimanale è nato. Cioè, non so, magari una breve spiegazione a chi è nuovo del tuo canale potrebbe piacere. Vedi tu, eh? Allora, allora, ti spiego, ti spiego, fammi, ti spiego. Io copio in tutto e per tutto Daniele da Semmatt. Però siccome il venerdì se l'era già preso lui, non volevo litigare e ho scelto il giovedì. No, a parte gli scherzi. Quando feci il primo video cos'è un beatmaker che ricevette 100 visualizzazioni in 2-3 giorni, che per me era tipo, ma come, incredibile. Tutti iniziarono a chiedermi, ma quando il prossimo video? 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 E allora, come un coglione, perché sono stato un coglione e me ne pento tutta ora, è venuta st'idea ogni giovedì. Perché, così, a cazzo di calma. E da quel giorno mi sono rovinato la vita. Jason, mi piacerebbe sapere la tua opinione su Tori e Rocce o su Commerciale. A tua scelta. Allora, non ho ascoltato ancora né Tori e Rocce né Commerciale. Ma giudicare dei singoli Tori e Rocce mi è piaciuto, perché, minchia, le leggende non muoiono mai. Ha un ritornello che lo puoi adattare su qualunque cosa e suona comunque bene. E poi mi fido ciecamente di Shablo e di Don Gio. La stessa cosa riguarda per Commerciale dei One Mic. Ho sentito soltanto, ci ho visto soltanto i video, che comunque quei tre sono dei pazzi. Troppo forti. Appena ascolterò il disco, non credo che potrò rispondere di una vostra domanda, comunque. Premesso. Simone Master Sisma ti odio. La domanda la lascerò in sovraimpressione, così rispondo piano piano. Perché in America uno prima firma con una major e poi continua a fare ciò che sa fare fino a vendersi, mentre in Italia uno firma in major con lo scopo di vendersi a tutti i costi? Io non credo che uno firmi con lo scopo di vendersi, ma penso che la major influenzi l'artista a fare delle cose che piacciono alla massa. In America l'hip hop, diciamo underground, è più ben visto alla massa. Qua l'hip hop serve alle scuole di ballo hip hop, serve ai bambini stupidi che vogliono imparare dei testi pieni di parolacce, eccetera. Quindi l'artista, per continuare a guadagnare il suo pane quotidiano, penso sia costretto a fare robe del genere. Se invece ci fosse un pubblico di massa un po' più grande che apprezza altre tipologie, si continuerebbe anche sotto major a fare hip hop bello ruvido, diciamo. Poi io non ho mai firmato per una major. Perché su Sample Sampled non metti mai video francesi, tedeschi, britannici o di qualunque altra parte del mondo che non sia America o Italia? Semplice. Perché io sono poco preparato sul rap britannico, francese, tedesco, o quel che sia. Quindi non saprei parlarne più di tanto. Cioè, sto cercando di colmare questa mia lacuna, ma io non parlo di cose che non so, francamente. Perché se Bonilla Ice si crea il personaggio inventandosi un passato da gangsta che non ha mai avuto, tutti lo odiano, e se il dottor Dre si fa scrivere testi da altri da quando ha iniziato, nessuno dice un cazzo? È molto semplice. In Italia questa cosa praticamente quasi non c'è. Ma in America non è strano che uno scrittore di al proprio testo ha un altro rapper. Vedi, per esempio, in The Club di 50 Cent l'ha scritta Eminem, eccetera, eccetera. Molti rapper danno soltanto la voce e i testi se li fanno scrivere dai text maker, credo che sì. Pensi che fra due generazioni... Pensi che fra due generazioni forse la cultura italiana avrà accettato la cultura hip hop all'interno di essa senza screditare chiunque produca qualcosa di diverso dai canoni cantautoriali? Ok, io spero di sì. Ma vedendo le nuove leve francamente penso di no. Mi auguro di averci orcio ma io penso proprio di no. Il vlog è finito, ho risposto alle vostre domande, mi sono incazzato con voi e un'ultima cosa. Basta chiedermi della sigla finale. La canta Stoner F. Clicca sulla sigaretta per andare al link diretto per potercela ascoltare tutta. Lo ringrazio ancora per avermi permesso di usarla e basta, questo è quanto. Ci vediamo giovedì.